Torniamo ora sul tanto discusso hub che dovrebbe sorgere nel villaggio di San Giuliano di Puglia. Nell'assemblea svolta sia Santa Croce di Magliano, i sindaci dei cinque comuni che gravitano intorno a quell'area hanno ribadito il loro dissenso, minacciando anche di restituire la fascia tricolore, dimettendosi con i rispettivi consigli comunali. Partecipata assemblea presso il centro comunitario di Santa Croce di Magliano, dove i comuni che gravitano attorno a San Giuliano di Puglia si sono riuniti con i propri amministratori e cittadini per fare il punto della situazione e ribadire un secco no all'apertura del lab presso il villaggio che un tempo ha ospitato la popolazione terremotata di quel centro. Moltissimi gli interventi che seppur con sfaccettature diverse perché c'è sempre qualcuno a cui dispiace anche di fronte all'evidenza dei fatti inimicarsi la politica, è prevalso con chiarezza che si è stati e si è favorevoli ad essere solidali anche se è stato già dato. Ma se proprio si deve accogliere va utilizzato il modello SPRAR e un'equa distribuzione su tutto il territorio regionale. Sono venuti fuori i ritardi della ricostruzione post-sisma, la mancata ripartenza dell'economia, la viabilità, i presidi chiusi, la mancanza di lavoro, lo spopolamento, le scuole da ricostruire e la paura di fronte a quella che viene definita una pericolosa invasione, studiata a tavolino proprio dalla politica che qualcuno tenta chissà per quali motivi ancora di difendere. Dopo il dibattito sono seguite le proposte. Il giorno 13 novembre ci sarà una grande manifestazione davanti alla prefettura di Campobasso, delle amministrazioni e dei cittadini e se non dovesse bastare, i cinque sindaci dei comuni di Santa Croce, Rotello, Bonefro, Colletorto e Montelongo sono pronti a restituire le fasce e di mettersi assieme ai rispettivi consigli comunali. Contestualmente invitato alla pubblica adunanza il presidente Frattura affinché gli sia sottoposta un'idea diversa e più nobile a cui destinare quella struttura.